Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro schermo Allora è arrivato nelle librerie italiane il nuovo libro di Roberto Recchioni Eccolo qui, ve lo faccio vedere Roma sarà distrutta in un giorno A presentarlo chi se non appunto l'autore del libro Anzi, anzi, Roberto Recchioni, benvenuto, bentornato al Corriere dello Sport Vengo sempre volentieri Allora, ti facciamo subito innervosire Questa in realtà è una graphic novel So che a te piace moltissimo questo termine, giusto? Guarda, va bene, fa vendere più libri Permette ai giornalisti di parlarne con meno disagio Perché quando parlano di fumetti stanno in imbarazzo Sappiamo che a te questa cosa ti irrita parecchio Sì, è un'etichetta commerciale È un'inutile etichetta commerciale in termini culturali Però è utile per vendere più libri La gente che entra in libreria non si vergogna Chiede una graphic novel perché quando prendi il fumetto Ti prendi che sei un po' un cretino E quindi va bene così Va bene, ti sapevo più adulto, non lo so perché chiamano graphic Non lo so, vabbè, comunque Sì, ma perché, sai, ti ricordi quella gag di Woody Allen Che andava e prendeva tutta la roba Che poi nasconde la pornografia tra i giornali È uguale Allora, Roberto, parliamo un po' di questo libro Innanzitutto, insomma, introducilo tu Raccontaci un po' Sì, Roma sarà distrutta in un giorno È un libro che ho scritto e poi disegnato In collaborazione con la band del Muro del Canto Che è una band romana molto forte che amo tantissimo In particolare con Alessandro Pioravanti Che è uno dei loro parolieri Racconta la storia di questo mostro gigante Che emerge dalle acque di Ostia E quartiere dopo quartiere inizia a distruggere la città Non è una storia di disastri Una storia spettacolare in stile americano Ma è in realtà una storia di romanità Perché il mostro è lo sfondo Che poi permette di vedere tante piccole storie umane Nel divanarsi della devastazione Chiaramente, come tutte le grandi storie di mostri Come Godzilla, l'originale Che non era altro che una metafora dell'atomica E della paura del nucleare giapponese Anche il mio mostro è un'enorme metaforona Del resto arriva dal mare come un immigrato Distrugge la città Arriva dal mare a Ostia Cioè, un quartiere di Roma che ha una precisa valenza Passa per Aciglia, l'Infernetto E tutto il mondo di mezzo di Carminati Arriva a Roma e ogni quartiere di Roma Ha una sua valenza specifica Fino chiaramente al centro, al governo E poi a Montemario Insomma, ci hai messo dentro un sacco di temi C'è tantissima attualità in questo tuo libro Sì, quando lavoro per Fertrinelli Tendo a fare libri molto politici Quello precedente ha, purtroppo, anticipato Tutto quello che poi è avvenuto con le elezioni Ricordiamo la fine della ragione Sì, la fine della ragione col governo Era giallo-verde Era giallo-verde E ormai con i colori mi faccio un casino Scusami Fa un po' ride che i governi adesso li chiamiamo con i colori Beh, adesso è giallo-rosso Quindi, diciamo, sotto un certo punto di vista So che, insomma, ti fiacche Roma Quindi diciamo che a meno Dipende da come si comportano Da come si comportano, esatto Perché, sai, se lei è crisi giallo-rossa Io sono abituato Esatto, esatto Esatto Senti, vabbè, quindi dicevamo Questo mostro, tra l'altro, si chiama Nerone Sì, è il nomignolo Un altro richiamo È il nomignolo che gli affidano i giornalisti Perché è enorme, gigante, nero Brucia la città Quindi, ovviamente, serve un nomignolo Da appiccicargli al volo Perché abbiamo bisogno dei nomignoli Diamo i nomi anche agli uragani Ai tifoni e tutto il resto E si becca Nerone Che poi non è vero Storicamente sappiamo che non è vero Però l'immagine collettiva è quella Però è quella, è divertente per quello La domanda che viene fuori, no? Magari leggendo questo libro Questo, come lo chiamo? Dimmi tu come chiamiamo Fumetto Libro a fumetti Libro a fumetti Libro a fumetti È come si affronta l'apocalisse Ognuno l'affronta a modo suo, no? Sì, sì Una degli spunti del libro Nasce da un film bellissimo Di Sica Che si intitolava Il giudizio universale In cui questa voce annunciava Che a una termina da ora Ci sarebbe stato il giudizio universale E si vedevano tutti gli abitanti di Napoli Mi pare che reagivano a questa cosa E qui il meccanismo è lo stesso Nel senso Come reagiscono i romani All'idea di un'apocalisse imminente E variano a seconda dell'umanità Presa in atto Quindi dove il mio sguardo è gentile Per la commessa che si fa a tre ore De metro tutti i giorni Per andare a tornare dal lavoro Da Cilia Che è una grande lettrice Si rende conto che non potrà scappare E quindi continua a leggere il suo libro Vuole leggere il finale Vuole sapere come finisce Il maestro di Margherita Dove il mio sguardo O meno è gentile Per esempio Che ne so Nei confronti di Roma Nord Che per me non esiste Perché sono uno di Roma Est Io quando vado a Roma Nord Giuro Prendo il passaporto Non mi permetti mai che mi fermano Scoprono che non ci possono stare Sei stato poco clemente con Roma Nord Con Roma Nord C'è un po' più cattivo Un personaggio di Roma Nord Che dice Ste cose non succedono a Roma Nord Non succedono in periferia E poi c'è Roma Sud Con le Sì Poi c'è il racconto di Carbatella Che invece è uno dei racconti più caldi Lì è proprio il testo di Piero Avanti Che lo sostiene Con questo pranzo a casa da mia madre Con la tovaglia con i fiori Che legge i comiti di tutti Quindi c'è tanta romanità In realtà è un libro Molto arrabbiato con Roma Perché io credo che Il romano vero Proprio perché ama Roma Non può che essere arrabbiato In questo momento con la città Nel senso Roma è sempre stata Una città molto problematica Negli ultimi anni Sembra una città laboratoria Nel senso Tutto quello che si poteva fare male Lo abbiamo provato prima qui Per poi esportarlo Su scala nazionale C'erano le persone che pensavano Magari visto che l'esperimento Roma è fallito C'è qualcuno che magari pensa Che non si possa esportare E invece Ti viene il sospetto Ma se vedi che determinate Suggestioni un po' ingenue Che vengono messe al governo di Roma Cioè voglio dire Io ancora mi ricordo Quando c'erano me la monotordaia Dei Simpson E la moneta di scambio Alternativa Non hanno poi fatto presa Nella città Magari non ti viene De replicarle Su scala nazionale E invece pare di fare Che sia una buona idea Senti Si racconta anche In questo libro La cosa coraggiosa Che tu fai E che tu Hai riprodotto esattamente I personaggi Non è che tu hai usato Metafora Sono quelli Si capisce che sono quelli Non vengono nominati Non vengono nominati Però sono quelli Insomma si capisce Si capisce Ministro del cosplay Esatto Esatto Si racconta tra l'altro Appunto una Roma Incapace di gestire l'emergenza No? Che è un'emergenza Abbastanza importante E ci sta ad esempio La figura di questo sindaco di Roma Che è in missione diplomatica Lasciarmi scelta il mare Ma sì Però questa non è neanche Un attacco A sindaca nostra Carissima In realtà Se tu ci guardi Nella storia recente di Roma Ogni volta che c'è stata una crisi Il nostro sindaco Stava da qualche parte Generalmente col mare Non so se ti ricordi Coincidenze Il funerale dei Casamonica E il nostro sindaco non c'era Stava lasciando C'è quel meme No coincidenze Chissà È una coincidenza Però il nostro sindaco Sta sempre dall'altra parte Però in realtà Qui poi sembra Attacca veramente La Santa Virginia E tutto quello che viene appresso In realtà non è così Nel senso Il problema del nostro attuale sindaco O sindaca Non mi ricordo mai Qual è la versione Politicamente corretta Da dire È che si è trovata A gestire una città ingestibile Che funzionava Su un meccanismo Della suburra Quindi una commissione Di interessi Leciti e meno leciti Che però in qualche misura Permettevano alla spazzatura Ad essere accolta Una volta che inizi a scartinare Non c'hai quel pelo Sullo stomaco Che serve per gestire Roma Ecco lì che te ritrovi In una città paralizzata Ma l'errore era a monte Non è tanta valle Io non mi piace L'attuale gestione di Roma Ma l'errore era a monte Poi ci sono anche Non manca il giornalista Ci sta la mentana La sua maratona mentana Del mostro Che anche quella non manca Ma lì il discorso è Tutto diventa Perché si Scusami Perché si ride molto Cioè io Ho trovato molte scene divertenti Nella tragedia Insomma a me ha fatto ridere Dicevi scusa Meglio ridere che piangere Cioè non c'è altra soluzione No ma la sua mentana è uguale È un giornalista Che stimo enormemente Però vogliamo dirlo Che negli ultimi anni È diventato un po' Il tormentone di se stesso Una maratona Qualcosa mentana Come nasce questa collaborazione Con il muro del canto Nasce perché Sapevo che il libro Aveva bisogno Di un animo Molto romantico E molto umano E io non ce l'ho Sono troppo cinico Sono troppo sarcastico Sono troppo provocatore Loro sono una band Che amo tantissimo Gli amo dalla prima volta Che li senti Col primo album E ho iniziato A lavorare l'idea Ascoltandoli A un certo punto ho fatto Ma piuttosto che Derivare da loro Le cose che vorrei mettere Nel mio libro Li chiamo E vengono dentro Quindi è nata così E a poco a poco È diventata proprio Una parte importante Del libro Perché alcuni testi Di Alessandro Stanno effettivamente Nel romanzo E poi esploderà Perché faremo Le presentazioni In giro per l'Italia Assieme Quindi si parlerà del libro Si scriverà Si disegnerà Ma si suonerà pure Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti